Cambio al vertice a Palazzo del Carmine, dopo le dimissioni dell'ex segretaria generale Rita Lanzalaco e Giuseppe Velle, il nuovo segretario generale del Comune, nativo di Raffadali, classe 68, con un curriculum di tutto rispetto alle sue spalle, come per iniziare le due lauree, giurisprudenza ed economia e commercio, e poi ancora numerose pubblicazioni, insegnamento. Anche all'università, l'Umsa di Palermo è stato componente di consigli di amministrazione di grande livello e di importanza. Proviene adesso dal libero consorzio di Agrigento, dove ha assunto la stessa carica, ma prima dell'incarico nella città di Pirandello ha svolto la funzione di segretario generale in numerosi comuni come Licata, Sommatino e Villalba, 16 curriculum inviati di altrettanti candidati all'ambita carica. Vella prenderà servizio tra qualche giorno e farà la sua prima uscita ufficiale giorno 9, data del primo consiglio comunale utile. Il segretario generale percepirà uno stipendio di 92 mila euro l'or di circa all'anno. Adesso resta da risolvere, in quanto posizione apicale del Comune, la questione riguardante il rinnovo dell'incarico al ragioniere generale Claudio Bennardo in scadenza breve. In questo caso la questione si fa più complicata in parte politica, come consuetudine ed in parte tecnica. Infatti pare che l'articolo 10, dirigenza di incarico, quella che in questo momento svolge il ragioniere generale, sia già stata individuata per un avanzamento di carriera di un funzionario dell'ufficio tecnico. Dunque, l'unica possibilità resterebbe quella di un incarico in mobilità, ovvero prendere un ragioniere generale da un altro comune. E per questo pare sia in pole position il nisseno, già dipendente del Comune di Caltanistetta, funzionario dell'ufficio tributi Giovanni Mantione, che recentemente per un breve periodo sostituì Claudio Bennardo e adesso invece si trova a fare il ragioniere generale al Comune di Agrigento. Adesso però entra in ballo la politica, infatti pare che almeno quattro assessori dell'Aggiunta a Ruvolo non siano assolutamente d'accordo sulla sostituzione di Bennardo, che pare abbiano intenzione di fare le barricate per confermare il ragioniere generale che ormai conosce i meandri del bilancio comunale e tiene le redini della cassa di Palazzo del Carmine. Troppo valido, dicono, per essere sostituito.